Ciao, sono la dottoressa Manuela Sappracone e oggi voglio parlarti di un'importantissima alleata per la tua salute se hai deciso di perdere qualche chilo di troppo, ed è la fibra. Molti associano l'utilizzo della fibra soltanto a disturbi come la stitichezza, quindi la fibra sicuramente aiuta a migliorare la funzionalità intestinale, ma non solo, aiuta a controllare e a ridurre l'assorbimento di alcuni alimenti, soprattutto zuccheri e grassi. Ti faccio un esempio molto semplice, pensa di dover mangiare della marmellata o un frutto fresco e pensa a quanta marmellata dovresti mangiare per raggiungere la sazietà, mentre il consumo di frutto fresco sicuramente ti permetterà di raggiungerla prima. Questa differenza è data proprio dalla presenza di fibra, ogni donna dovrebbe assumere all'incirca nell'arco della giornata 25 grammi di fibra, l'uomo 40 grammi. Ti faccio un altro esempio, la pera contiene 6 grammi di fibra, quindi sicuramente per raggiungere la quota giornaliera ti consiglio di mangiare cereali integrali, legumi, ma non fare tutto insieme, un po' alla volta per non incorrere poi nel mal di pancia. Ciao e arrivederci al prossimo consiglio!